Camilasse Antonio dell'area saluzzese, il collegio provinciale per le elezioni di prossimi regionali, l'ascesa della Lega in provincia di Puneo e in regione Piemonte, che sono i diciamo? Diciamo che la Lega si trova una grossa responsabilità perché l'ascesa è dovuta principalmente alla voglia, all'aspettativa di cambiamento per la gente, la gente ha provato tanti partiti e ha visto che i suoi problemi non sono risultati. La volontà è quella di cambiare e credo che la Lega abbia dato dei messaggi che adesso la gente comincia a capire. Il federalismo fiscale da una parte, la sicurezza dall'altra, il cittadino al primo posto, questi sono tutti temi che secondo me sono temi sentiti dalla gente. Il grande compito che aspetta è quello di riuscire a dare risposte a questi temi e sarà il compito nostro. Siamo un partito giovane, io sono tra i più vecchi, però voglio dire ci vuole anche materiale politico, materiale umano per rispondere a tutte queste cose. Dobbiamo attrezzarci perché questa grande crescita determinerà anche i grandi impegni. Quindi dateci fiducia e cercheremo di ripagarla anche lavorando al nostro interno per portare su forze nuove e per rispondere a questa domanda che c'è nella gente.